Ho una domanda da farvi, perché in questi giorni, in procinto della partenza per il mio viaggio in India, quello di settembre, stavo ripensando a quando sono andata in India la prima volta, quasi 30 anni fa. In quell'occasione sono partita con un bagaglietto a mano per un periodo di tempo indefinito, perché non sapevo quando sarei tornata e non ho portato con me la macchina fotografica, proprio non ho voluto portare una macchina fotografica per fare foto, perché non mi volevo sentire una turista. Oggi come oggi stavo pensando alla partenza e alla macchina fotografica, portarla sì, portarla no? Ho questo dubbio, penso di portarla perché oramai siamo comunque nell'era dell'immagine e della condivisione e mi sembra anche bello e giusto condividere. Però ho una domanda, siccome dell'India è già stato tutto fotografato, tutto visto, tutto mostrato, le donne, i bambini, i colori, i templi, i santoni, la povertà, la malattia, l'opulenza, la ricchezza, lo sfarzo, lo splendore, il misticismo, tutto, praticamente tutto, mi chiedevo che cosa vorreste vedere di particolare, di diverso. Datemi qualche suggerimento perché anche io ho comunque nei miei viaggi successivi fotografato tantissimo e vorrei concentrarmi su qualcosa di diverso. Allora aspetto dei suggerimenti. Grazie.